ok ciao a tutti carissimi amici retro come potete ben vedere sapete benissimo di che cosa sto parlando che cosa voglio farvi vedere prima di tutto avevo saputo circa un mese fa di questa uscita qua di questa rivista realizzata da games village punto it questo capitolo dedicato ai videogiochi di una volta ai retro games un viaggio imperdibile nei grandi capolavori del passato infatti possiamo già notare subito qui monkey island 2 si parlerà sicuramente di playstation il mito playstation e questo che cos'è il castlevania 3 costa in goblin super mario bros e comunque con questa interfaccia qua di spiegazione relativa al classico super mario bros del nes allora in prima di tutto stamattina che ero un po di fretta tra diversi disguidi e tante altre cose ero passato in edicolo a prendere cico però cazzo l'ho vista gli ho buttato l'occhio guardato il prezzo è un pochino tanto però detto vabbè ci penso poi non ci penso poi ci penso poi non ci penso sono tornati dietro a fanculo e me la sono presa poi ho notato una frase no che mi ricorda un po il mio sfogo che avevo fatto su sul canale essere un essere retro qua praticamente è stata ripetuta più o meno la medesima cosa quindi non sono io il pirla che ha avuto un pensiero del genere no a quanto pare anche gli altri hanno avuto un pensiero quindi ragazzi per chi mi ha dato contro a essere un essere retro andate a quel per non dire una parolaccia il retro games non è solo una passione sempre o la semplice nostalgia dei classici videogiochi degli anni 80 e 90 è una parte importante della nostra storia della nostra cultura tutta da riscoprire in questo imperdibile speciale da ben 148 pagine ragazzi dal nese ai pokemon dalle console più disastrose al mito della prima playstation seguiteci in un viaggio fantastico in compagnia dei più grandi autori di videogiochi del passato per vivere le indimenticabili emozioni della nostra infanzia e scoprire curiosità segreti dei classici che ci hanno fatto sognare quindi ragazzi chiunque abbia realizzato questa guida la pensa esattamente come il sottoscritto comunque non vi farò leggere tutto ma vi sfoglierò praticamente il tutto e analizzeremo più o meno in sostanza ciò che si potrà vedere l'importante già qui l'interfaccia fa capire tanto è o ragazzi già si parlerà abbiamo visto più grandi disastri dei videogiochi vabbè al power globe virtual boy space harrier l'evoluzione dei pokemon punta e clicca ragazzi addirittura i lemmings e come la playstation ha cambiato i giochi stessi e poi f 0 la rivoluzione del racing i più grandi classici del nes ragazzi per gli amanti è veramente una cosa stupenda già qua i migliori giochi multiplayer di sempre vabbè qua si parlerà sicuramente di super mario kart che lo riconosco il double dragon scusate mi stava per venirmi uno starnuto il double dragon questo è bomberman questo qua proprio la versione arcade poi per non parlare del grandissimo street fighter quindi ragazzi abbiamo già visto che qua ci sarà da divertirsi super mario kart già proprio non ancora mai portato sul canale super mario kart che sia mario kart dell'advanced snes o nintendo 64 potrei anche pensarci potrei anche quello della wii che era molto stupendo beh street fighter 2 vabbè ragazzi qui non c'è nulla di non c'è nulla da spiegare perché sappiamo benissimo anzi qua c'è una statistica per quanto riguarda vabbè qua mi sembra un po' esagerato a dire che 5 per cento soltanto il 5 per cento dei giocatori preferiva mortal kombat 2 perché mortal kombat 2 ragazzi dovete prima di tutto conoscerlo prima di dare un giudizio street fighter 3 the first strike vabbè anche quello lì era molto cartunesco rispetto al solito altri 12 per cento non capisco forse anche sul calibur potrebbe anche essere stato messo perché anche sul calibur era molto molto bello però street fighter 2 vabbè forse perché qui gli autori di questa rivista qua erano veramente fan di street fighter probabilmente senza ombra di dubbio qua con varie delucidazioni che non sto lì di certo a eccedere sensible soldier chi non lo conosce double dragon vabbè infatti sviluppatore arcade vabbè io metterei la technos più che sviluppatore perché la casa era la technos vabbè in momenti chiave che una volta sconfitto il nemico qua dice che i due giocatori si prendevano a botte e questo era il massimo della goduria un mega bomber man miglior party gamer vabbè in mega bomber man anche questo qui quando li facevano su sness erano uno spettacolo oltre che alla versione arcade mega bomber man intratteneva molto l'utente chi non ha mai giocato o chi non ha mai avuto modo di documentarsi si documenti perché bomber man era potente warlords anche questo non ha bisogno di spiegazioni latari già micromachines 2 mi piaceva di più il primo me di micromachines beh worms ragazzi questo è strategico worms era veramente una bestia vabbè qua si passa già al nintendo 64 il pad verde golden eye si vabbè questo era di su 007 proprio era molto carino anche se effettivamente l'ho visto ma non ci ho mai giocato o questa è una delle sezioni che io preferisco più in assoluto guarda una scimmia a tre teste chi ti dice questo cosa ti ricorda i migliori punti e click della storia madonna passiamo da simon the sorceress di scuola indiana jones monkey island le sue sweet larry madonna mia broken sword space quest death tentacle green fandango lure of tempers madonna mia addirittura però si parte proprio dagli arbori ed è salendo poi di data il mitico tentacolo verde questo si passa proprio al day of tentacle o monkey island 2 ragazzi la mitica prima sequenza iniziale dove largo la grande ci fotteva tutti i soldi quindi potete anche già immaginare che razza di balordo era i cinque giochi essenziali per il punto e clicca monkey island 2 gabriel knight questo è il primo gabriel knight benefit steve sky blade runner green fandango io aggiungerei anche day of tentacle perché questo tra i humor e tutto il resto ragazzi ha veramente fatto innamorare molta gente full throttle disk world fly the mason queen the mist loom aggiungerei anche che il nostro caro pacco fire aveva realizzato loom completo quindi quello è stato proprio un colpaccio the dig infatti l'ho già detto i fire broken sword e poi arrivando anche alla fuga di monkey island che avevano introdotto il modello 3d quando era ancora lucasarts e non mi era piaciuto più di tanto ecco questo è un punto e clicca ragazzi non fatevi ingannare è un punto e clicca che sta per uscire ed è stato fatto da ron gilberto meglio sta per essere realizzato da ron gilberts che è l'autore del di monkey island dei primi due monkey island anche se m max anche questo era veramente pieno di humor ed era pazzesco lo special elite questi è basato più sul cyber spazio distruzioni di navicelle combattimenti nello spazio e non è che ero molto appassionato di questo tipo di gioco anche se al tempo erano ooooh i lemmings questo è la guida definitiva dei lemmings un grande gioco strategico era veramente questo oltre a farti perdere tante ore attaccato alla console perchè è stato realizzato proprio su tante versioni partendo dal pc dalla miga e poi arrivando anche sulle console mega drive master system e tanto altro quindi è vero infatti le migliori conversioni qua si passano dalle migliori commodore 64 playstation 2 mega drive atari links master system e le peggiori invece come sono state messe qua sono state proprio peggiorate però poi ce ne sono proprio tutta la spiegazione non voglio annoiarvi tutto questa è proprio roba di cyber spazio più di tanto questo non l'avevo mai apprezzato ooooh i più grandi disastri dei videogiochi questo era il power glove sarà anche stato un disastro però a mio avviso a mio avviso trovarlo adesso vale un sacco di soldi il virtual boy gli zelda sdii il rob e ti dell'atari questo è il mega no è il mega drive 32x una periferica applicata al nostro caro mega drive che permetteva di arrivare a tanti giochi una grafica pazzesca su molti giochi poi per non parlare gli zelda del cdi che purtroppo gli hanno spalato merda a tutto spiano io non sono d'accordo anche se giustamente non rientrano nella linea temporale di zelda però hanno sempre il loro fascino perché adesso valgono anche un sacco di soldi power glove ma era veramente bello cioè io purtroppo non sono mai riuscito ad averlo ma possedere una roba del genere cazzarola sarebbe stata una cosa stupenda il mitico rob il super scope nintendo scope che al tempo era più grosso e impestato rispetto a una normale light phaser del master system quindi era molto ingombrante però è un vero una vera sfiga anche il pad del master system è proprio la versione arcade che io ce l'ho e conservo tuttora e questo è il mitico rob ragazzi qua c'è tutta la storia dedicata a rob se un domani riesco ad avere un rob che sia pal perché questa è la versione pal mentre la versione giapponese è rosso qua con le braccia vi farò una bella recensione ma attualmente non preferisco evitare perché anche qui si parla proprio di giochi falliti rise the robots detti l'extraterrestre oddio qua ci starebbe da spiegarci un casino di robe vorrei evitare di anche entrare in contrasti perché sono qui proprio per spiegarvi illustrarvi questa guida questa scusatemi rivista Zelda CDI Sonic Digiog la versione però del 2006 e quindi lasciamo perdere che è meglio il virtual boy anche qui secondo me ragazzi hanno fatto veramente dei giochi carini perché c'era un Wario Land scusate in qua c'è la luce che era veramente molto bello forse uno dei pochi giochi belli diciamo che il virtual boy ti proiettava proprio nel futuro era il futuro di per sé ma non capisco perché allora io sono sincero costava troppi soldi forse il motivo per cui era fallito erano due il prezzo e poi dava veramente fastidio gli occhi e te li spaccava infatti l'hanno anche scritto il 32x una periferica leggendaria ragazzi la Jaguar o qua si passa adesso a Space Harrier un capitolo proprio della Siga uno forse dei migliori di casa Siga Space Harrier esisteva proprio anche qua il cabinato arcade dove tutti i sedevi ed entravi in questo mondo guidando questo personaggio che volava e massacrava tutti i nemici che incontrava doveva praticamente liberare il cyberspazio da questi nemici e tutti i boss che si incontravano ragazzi erano veramente letali e se non erro anche la versione Master System aveva un boss segreto in più e un livello in più di poi ci sono tutte le varie conversioni del PC Engine addirittura Atari ST o qua si parte dall'evoluzione dei Pokémon quindi a maggior ragione si vabbè qua si sofferma dagli arbori fino ad arrivare proprio ai giochi un pochettino più recenti dei Pokémon dei vari spin-off come Pokémon Stadium Pokémon Snap che noi possediamo e poi fino ad arrivare un pochettino ai titoli un po' più recenti oh guardate eh la PlayStation come ha cambiato il mondo dei videogiochi l'approccio di PlayStation con il nuovo mondo videoludico vabbè qua parlava un po' della meccanica cosa c'era sotto il coperchio il lettore insomma le parti meccaniche praticamente qua si fa un discorso molto importante sull'approccio nel mondo perché al tempo che Sega e Nintendo si contendevano un po' al mercato quando arrivò Sony praticamente non Sonic la Sony che buttò la PlayStation sul mercato causò la decadenza non solo di Sega e Nintendo ma anche dei loro relativi arcade di conseguenza che la gente come c'è scritto qui andava in giro con un sacco di cartucce negli zaini qua con un semplice contenitore potevano andare in giro con dei CD è vero la PlayStation aveva i CD a dispetto delle console come idem lo aveva il PC però c'è da sottolineare cari autori di Games Village che non avete messo il Sega Saturn che il Sega Saturn era uscito molto prima un annetto prima rispetto alla PlayStation l'unica pecca perché prevalse la Sony PlayStation è perché il Sega Saturn era troppo caro la pubblicità di Sega inoltre era molto scarsa rispetto alla PlayStation e automaticamente la gente preferì buttarsi su questi giochi che erano anche più alla mano di prezzo rispetto al al Sega Saturn perché qua oltre Resident Evil ce l'aveva anche il Sega Saturn tendiamo anche questo a precisare e inoltre tenete anche presente che avevano un pad molto più nuovo che dava un'esperienza più diversa c'erano anche più giochi innovativi mentre il Sega Saturn aveva un pad abbastanza simile al suo predecessore Mega Drive un vero forse per questo poi si parla vabbè della PSP e poi vabbè tante altre cose oh ragazzi questo lo conoscete di sicuro e poi ragazzi c'è tanta altra roba che vorrei tanto mostrarvi ma il video sta diventando un po' lungo però adesso lo taglierò corto i più grandi classici del NES vabbè questo qua cip e ciopera stupendo anche questo i quelli più che hanno loro hanno elencato tra i 25 più belli ecco Snake Rattle and Roll Bug Your Air e poi X-City Bike Double Dragon Kid Icarus Rival City Ransom Street Gangs questo era stupendo Faxanadu o Castlevania 3 Dracula's Cures e poi Zelda 2 di Adventures of Link anche qua gli è stata stesa una critica ragazzi ma in teoria nella Nintendo avevano introdotto questo genere di GDR applicato a Zelda e quindi a maggior ragione seppur la gente non aveva concepito questo cambiamento della Nintendo rimarrà sempre uno dei giochi molto criticati io purtroppo sarò il contrario se la gente critica da un lato io voglio capire perché critica e per me Zelda 2 è stato uno dei titoli più belli mandatemi a fanculo e io vi risponderò per le rime perché possedeva i primi accorgimenti di upgrade RPG e tante innovazioni sul fatto che si poteva potenziare di personaggio di energia di forza di magia e tutto e per di più ragazzi la cosa particolare è che si poteva interagire di più nei villaggi con le persone rispetto al primo Zelda il suo predecessore quindi si era stato introdotto questo meccanismo che se ci pensate c'era anche una mappa molto più longeva e questa caratteristica sul fatto di interagire con i personaggi a entrare nelle case è stata poi riportata nel Link to the Past attenzione quindi non spaliamo merda su Zelda 2 di Adventures of Link perché ragazzi fu veramente per me un capolavoro e una vera innovazione le tartarughe ninja Dakant il mitico Dakant contra Castlevania il primo Batman Metroid Metroid vabbè quello ha la sua difficoltà Megaman 2 un bellissimo Megaman 2 Super Mario Bros al secondo posto io metterei anche Megaman 3 qua non capisco perché hanno messo Super Mario Bros 3 forse per l'innovazione per la mappa per le capacità di interazione infatti qua ci sono i motivi Super Foglia l'ambiente vasto infatti animazioni scenari F-Zero vabbè io non sono mai stato un amante di F-Zero però anche qui lo considerano forse un gioco storico Capitan Falcon le vecchie macchine da urlo giustamente qua i giochi più difficili vabbè sicuramente hanno messo Ghost and Goblins Lost Level sicuramente Ninja Gaiden Prince of Persia Megaman Ghost and Goblins ah Discworld sicuramente per la sua enigmi logici infatti in enigmistica Discworld sfidava ogni logica giustamente perché io ho fatto una fatica a fare anche il Discworld quindi perfetto ragazzi siamo giunti proprio alla fine di questa rivista stupenda ragazzi che vi ho voluto mostrare e spero che questo video di quasi 20 minuti sia stato di vostro gradimento e ci sentiamo al prossimo ciao a tutti e grazie